Erice Estate 2024 entra nel vivo, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della Sicilia occidentale. Il ricco programma di eventi che spazia dalla musica alla letteratura, dall'arte alla scienza, sta attirando in queste settimane un pubblico sempre più vasto, consolidando il ruolo di Erice come centro culturale di primo piano. Il Festival Internazionale di Musica Antica, curato dall'associazione MEMA, continua a incantare gli spettatori con esibizioni di altissimo livello negli spazi del Chiostro dell'Istituto Wigner San Francesco. Parallelamente, le iniziative dell'associazione Vivere Erice e le conferenze organizzate dall'associazione MOICA stanno arricchendo il calendario con presentazioni di libri, momenti musicali e dibattiti su temi di attualità. Come nelle edizioni precedenti, Piazza San Giuliano si trasforma in un cinema all'aperto per circa un mese con l'iniziativa Agosto al Cinema. Il programma mantiene la sua formula vincente con proiezioni gratuite di film che spaziano dai grandi classici alle ultime uscite. Quest'anno è stata inaugurata una sezione pomeridiana di film dedicata ai più piccoli. La rassegna Magici Grappoli d'Estate, parte integrante dell'Erice Estate 2024, a cura dell'associazione Strada del Vino Erice Doc, ha deliziato i residenti e visitatori con serate che hanno combinato letteratura, musica ed enogastronomia. Un'attrazione di grande richiamo è la mostra World Schifano e la Pop Art, visitabile fino al 4 novembre, è curata da Marco Di Capua, Giordano Bruno Guerri e Pasquale Lettieri. L'esposizione offre uno sguardo unico sull'arte contemporanea.